Il governiero guaritore, come dice il titolo stesso, sono due concetti che in qualche modo sembrerebbero un'antitesi ma che in realtà nella figura di Nelson Mandela e non solo non lo sono perché da una parte noi conosciamo l'uomo che si è battuto per 27 anni per liberare il suo paese dal più terribile dei regimi razziali e che ci è riuscito dopo 27 anni di carcere grazie alla sua determinazione, alla sua resistenza e al sostegno che ha ricevuto dentro il suo paese e dalla comunità internazionale e poi però quando è diventato presidente ed è questo l'aspetto in cui mi sono soffermato nel libro perché è quello che secondo me rende Nelson Mandela nella mia personale graduatoria e classifica dei leader del secolo scorso e questo a questo punto è il più grande per me è che lui uscendo dal carcere diventando presidente della Repubblica sudafricana non fa quello che probabilmente nella stragrande maggioranza se non quasi la totalità delle realtà politiche ma direi anche umane si fa cioè non si viene condotto da una sorta di vendetta o anche utilizzando gli strumenti della legislazione però di una pena nei confronti di coloro i quali quindi la comunità in questo caso bianca che aveva governato fino al momento prima la ricerca della sola giustizia per i crimini che avevano commessi ma lui mette in atto quella che passa alla storia come la commissione per la verità e la riconciliazione e questo è il termine che mi ha più colpito in cui lui riesce a costruire un percorso di giustizia e politico in cui l'obiettivo era far emergere la verità atroce che era successa nel suo paese per ricostruire il paese e quindi riconciliarsi quindi l'obiettivo era quello e come l'ha fatto? Lui ha permesso attraverso questa legge speciale che ha costituito questa commissione a tutti coloro i quali quindi si parla di funzionari o dirigenti altissimi dello Stato, delle forze di polizia, dell'esercito che avevano commesso durante il regime razziale dei crimini tremendi che se avessero confessato completamente i loro crimini la commissione avrebbe potuto amnistiarli e quindi non condannarli ed è quello che poi è successo per un numero molto elevato di queste persone in tre anni di grande percorso e di udienze pubbliche che venivano trasmesse nella tv pubblica del Sudafrica in modo tale che, ecco perché la verità, perché attraverso queste udienze pubbliche tutti i sudafricani di colore e non venivano a conoscenza di quello che era stato fatto negli anni dell'Apartheid e la cosa clamorosa è stata che questo percorso, una sorta di percorso di catarsi di una crescita, di una ricostruzione di una nazione che metteva davanti fisicamente in queste udienze i carnefici con le vittime, ecco che poi è avvenuto quello che non era poi diciamo in qualche modo necessario perché quello che l'obiettivo di Mandela era di costruire una verità condivisa, una memoria condivisa del suo paese e una riconciliazione quindi da quel momento in poi per il suo paese tant'è vero che poi passa la storia come la nazione arcobaleno quella che costruisce Nelson Mandela ma poi avviene qualcosa di miracoloso, talvolta è successo e cioè che alla fine la vittima o i familiari delle vittime davanti alla confessione sincera di chi aveva commesso questi reati terribili che vanno dalle torture a cose ancora più gravi, queste persone riuscivano, le vittime riuscivano anche a perdonare il proprio carnefici. Ecco questa cosa che io lo dico con grande sincerità perché è stato in realtà pur conoscendo ovviamente la storia di Mandela, pur essendo ormai ero giovane a quei tempi quando Mandela usciva dal carcere ed ero davanti alla televisione come miliardi di persone quel giorno in cui uscì Mandela dalla prigione. Io questa vicenda della Commissione della Verità e della Riconciliazione lo ha presa attraverso un film che avevo visto dalla televisione direi quasalmente e scoprì questa esperienza che lui ha fatto dopo, appunto uscito dalla prigione e diventato presidente. Quindi lui ha messo in pratica questa cosa. Perché mi sono interessato a quest'aspetto particolare della vicenda di Mandela. Perché io in realtà, c'è un retroterra diciamo così, avevo scritto un libro precedente a questo che si chiamava Destinazione Felicità in cui ho parlato della felicità nei termini, diciamo di che cosa oggi si dice possa essere anche dal punto di vista delle scienze psicologiche, sociologiche, eccetera, può portare beneficio, benessere alla propria vita individuale, ma facendo anche riferimento a quello che oggi è chiamato la felicità pubblica e il benessere ecosostenibile. E quindi diciamo cercando di fare un rapparallelo tra la ricerca della felicità individuale e la ricerca di politiche che permettano a comunità di vivere un senso di comunità e di condivisione, quindi di appunto felicità pubblica che secondo me dovrebbe essere l'obiettivo più nobile della politica. Ecco, quando ci si imbatte nel tema della felicità individuale si viene sempre portati a riflettere sui due grandi atteggiamenti, chiamiamoli così, dell'essere umano. E cioè da una parte la gratitudine e dall'altra il perdono. E cioè si dice che chi riesce a costruire dentro di sé un atteggiamento nei confronti della vita di gratitudine, della vita delle persone, delle cose che si ha di gratitudine, si vive meglio. Lo stesso chi ha la capacità, riesce a elaborare dentro di sé, diciamo così, nei momenti critici anche una capacità di perdonare le persone che ti stanno intorno. Sulla gratitudine ero, come dire, in qualche modo sensibile e riuscivo ad arrivarci sul perdono meno. Quando ho visto questo film ho visto che qualcuno, un grande come Mandela, è riuscito a praticarlo per sé stesso ma poi è riuscito anche a metterlo in pratica nella propria comunità, nel proprio Stato. Quindi da una parte il perdono individuale e dall'altra il perdono, chiamiamolo così, pubblico o la riconciliazione. E per questo ho voluto approfondire questo tema. Concludo questo ragionamento, Anna, se me lo permetti, dicendo che ci sono delle frasi celebri di Mandela proprio sul tema del perdono. E ce n'è una che a me ha molto colpito, ed è la parte in cui appunto cerco di affrontare il tema del perdono da un punto di vista individuale, perché Mandela dice una cosa importantissima. A un certo punto racconta, uscendo dalla porta che mi portava al portone che mi avrebbe condotto alla libertà, sapevo che se non lasciavo lì dentro l'amarezza e l'odio sarei ancora rimasto in prigione. Quindi io mi sono immaginato, perché lui matura questa idea della riconciliazione durante il periodo del carcere, mi sono immaginato che lui ha raggiunto questa idea per due motivi fondamentali. Il primo perché lui era un politico, quindi non era un uomo, aveva la sua religione, ma non era un uomo di religione. Lui era un politico e quindi lui sapeva che per ricostruire il suo paese doveva fare un'azione che andava contro l'ordinario standard giuridico e costruire questo percorso straordinario, che poi è alla base di quella che oggi viene chiamata la giustizia riparativa. E lo ha fatto perché sapeva che era la migliore azione per avere il più grande risultato politico. E questo secondo me è una cosa che bisogna tenere ben presente oggi. Ecco l'attualità di questo messaggio. Non è un messaggio, come dire, religioso o filosofico. È un messaggio di concretezza politica. Se vuoi raggiungere un obiettivo in una comunità devi tenere tutti dentro e devi cercare un percorso di condivisione più ampio possibile. Secondo, dal punto di vista individuale, è questo che dice. Lui sapeva che quando usciva dalla prigione, se non avesse lasciato l'odio e il rancore, non le avesse lasciati, non le avesse superati, lui sarebbe rimasto ancora in prigione. Cioè una sorta di prigione interiore. Ed infatti in tutti i percorsi di perdono che ho letto, che ho cercato di capire, c'è proprio questa esperienza. Chi riesce a perdonare l'altro? E perdonare l'altro è un percorso che coinvolge sia la persona che ha subito il reato, ma anche chi l'ha commesso. Quindi è da essere una cosa reciproca, non un perdono così, diciamo, generale. Ecco, chi riesce a fare questo percorso dopo si sente libero. È proprio questa prigione interiore che viene spazzata via. Le catene dell'odio e del rancore ti tengono imprigionato. Quindi puoi avere avuto anche una giustizia dal punto di vista, diciamo così, della giustizia legale. Ma se dentro manteniamo sempre un rancore e un odio, questo può essere una grande prigione interiore. Mandela ha fatto il doppio percorso. Si è liberato dalla sua prigione interiore ed è riuscito a trasportare questa politica, questo cambiamento interiore in una politica che ha permesso al Sudafrica, in quel momento, di fare un grande passo avanti. Ovviamente, come in tutti i processi sociali e politici ci sono i pro e contro, le contraddizioni, ma fondamentalmente oggi la Sudafrica è una democrazia che è riuscita a superare il più terribile del regime razziale.